pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati buona solennità del corpus domini ovvero sia del corpo e sangue del signore la festa dell'eucaristia un mistero d'amore immenso il signore risorto che continua a donarsi a noi e a rendersi presente in mezzo a noi e in noi nascosto in poco pane santa teresina che ben vivo ne aveva l'amore e lo stupore nel cuore diceva che se conoscessimo il valore dell'eucaristia l'accesso alle chiese dovrebbe essere regolato dalle forze dell'ordine ma tuffiamoci un po nella liturgia del giorno chiedendo al signore che ravvivi noi l'amore per questo mistero grande ci troviamo nel sesto capitolo del vangelo secondo giovanni secondo gli studiosi è un discorso eucaristico giovanni infatti non ha l'ultima cena con l'istituzione dell'eucaristia probabilmente già erano in circolo i racconti degli altri vangeli soprattutto di marco il più antico ma ne riporta il senso profondo proprio grazie a questo discorso che gesù tiene nella sinagoga a cafarnao ripercorriamolo brevemente a volo d'aquila gesù ha moltiplicato i pani nel deserto e la folla lo cerca quel segno infatti se lo aspettavano dal messia quindi tutti li corrono dietro ma lo hanno frainteso pensano che sia un messia venuto a portare benessere pane in abbondanza allora gesù invita le folle a darsi da fare non per il cibo che passa ma per quello che dura per la vita eterna e qual è questo cibo che sazia la fame di infinito la fame di eternità il desiderio d'amore profondo che l'uomo reca in sé e lui stesso pane disceso dal cielo e perché nessuno potesse fraintendere nel testo di oggi abbiamo sentito gesù dice chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno il risorto si fa cibo alimento sostegno della nostra vita e ci comunica la sua vita eterna la sua vita piena divina ha ragione sant'ignazio di antiochia chiamava l'eucaristia farmaco di immortalità chissà che file ci sarebbero nelle nostre farmacie se vendessero un farmaco che permette di non morire nonostante qui si affrontino prove guerre malattie sofferenze chissà che file ci sarebbero cristo ci offre quello vero quello che ci dà la vita piena eterna la comunione con lui non si paga si accoglie che mistero grande miei cari se ci pensiamo in natura il superiore mangia l'inferiore il più grande si nutre del più piccolo qui invece è dio l'infinito che si fa più piccolo si fa cibo per noi per saziarci di lui e renderci come lui per dirla con il santo curato dars dio provveduto al nostro corpo con piante animali ma per le nostre anime non trovo nulla di degno all'infuori di se stesso e questo capite apre anche la nostra mente il nostro cuore ha un mistero di dio che è davvero amore perché noi tante volte pensiamo di dover sfornare prestazioni e dare cose a dio come se fosse dio doversi saziare di noi delle nostre offerte sacrifici invece cosa vediamo nell'eucaristia cosa vediamo in tutta la vita del signore gesù ma potremmo dire in tutta la storia della salvezza che è dio a farsi piccolo per farci come lui e pensiamo l'incarnazione l'onnipotente l'infinito che si restringe e si fa bambino e viene deposto in una mangiatoia come a dirci venite prendetemi mangiatemi mi offro a voi non abbiate paura e viene deposto nella mangiatoia lo stesso verbo usato per indicare poi la deposizione del corpo di gesù nel sepolcro quasi a ricordarci che tutta la sua vita è un consegnarsi sì perché quando ami qualcuno ti consegni nelle sue mani in fondo ti esponi anche alla sua libertà ma ti doni ti doni per il suo bene per il suo vero bene ed è ciò che ha fatto il signore con noi che volendo continuare a stare con noi e in noi continua a farsi piccino a nascondersi in poco pane dunque alla luce di tutto ciò capiamo bene che prima di chiederci qualsiasi cosa che alla fine è ciò che il nostro vero bene dio si dona fino in fondo a ognuno di noi per la mentalità ebraica miei cari era impossibile pensare ad una cosa del genere era uno scandalo ritenere che l'onnipotente potesse farsi così accessibile e vicino ma in fondo anche per tanti di noi che magari hanno già ricevuto un annuncio di gesù quanti freni tirati quante ritrosie quante difficoltà a lasciarci andare all'amore di dio sempre con quel sospetto originale che dio voglia fregarci che venga per toglierci qualcosa che venga soltanto a chiedere l'eucaristia invece ci grida tutt'altro dio si dona per colmare la nostra vita ora vogliamo domandarci ma cosa accade quando si riceve l'eucaristia ecco potremmo dire in semplicità che accadono due cose fondamentali cristo ci unisce a sé e ci unisce tra noi ci sarà di particolare aiuto la categoria della comunione vediamo innanzitutto il primo punto cristo ci unisce a sé ecco san paolo nella prima lettera ai corinzi ci dà una mano a cogliere ulteriormente questo aspetto e dice il calice che benediciamo non è forse comunione con il sangue di cristo e il pane che spezziamo non è forse comunione con il corpo di cristo abbiamo quindi questa comunione questa unione intima ecco pensiamo ancora all'esempio della nutrizione vi dicevo prima che di solito il superiore mangia l'inferiore e cosa succede lo assimila a sé lo trasforma in sostanze vitali ora quando noi riceviamo l'eucaristia il pane e il vino vengono normalmente assimilati dal nostro corpo ma a livello profondo spirituale è il signore risorto presente nel sacramento ad assimilare a sé le nostre anime vuol dire che infonde in noi i suoi sentimenti vuol dire che ci unisce più intimamente a sé e ci plasma ci trasforma in sé possiamo dire che ci divinizza e diventiamo man mano conformi a lui una cosa sola con lui perciò san leone magno diceva la partecipazione del corpo e del sangue di cristo altro non fa che trasformarci in colui che riceviamo questo ovviamente miei cari non avviene in maniera automatica né magica ma tanto dipende anche dalle disposizioni con le quali accogliamo gesù mi viene in mente la scena della guarigione dell'emorroissa una folla si accalcava attorno al signore ma una sola lo tocca con fede ecco chissà anche nel momento stesso quando abbiamo ricevuto l'eucaristia quale disposizioni quale amore quale desiderio di lui dio incontra in noi il secondo punto è che l'eucaristia ci unisce tra di noi e ancora san paolo continuando infatti nella prima lettere corinzi dice poiché c'è un solo pane noi pur essendo molti siamo un corpo solo tutti infatti partecipiamo dell'unico pane quindi potremmo dire che la chiesa ci dona l'eucaristia ma l'eucaristia fa la chiesa ci fa chiesa ci fa un corpo solo questo almeno due belle implicazioni tra le tante che mi piace mettere in luce quest'oggi la prima se l'eucaristia fa questo e ci unisce capite che per riceverla in un modo degno in un modo bello in un modo autentico è importante che siamo quanto meno vogliamo essere in comunione con gli altri andare a ricevere cristo e volontariamente coltivare dell'astio del rancore del risentimento avercela con qualcuno e non essere disposti ad andargli incontro capite bene che non è vivere ciò che significa l'eucaristia comunione tra noi diceva san giovanni crisostomo che cos'è il pane consacrato corpo di cristo e che cosa diventano coloro che si comunicano corpo di cristo non molti corpi un corpo solo quello di cristo ed è in questo senso che san paolo diceva che chi mangia il corpo di cristo senza riconoscerlo senza riconoscere nell'altro il volto del fratello mangia e beve la sua condanna quindi qualcosa di molto forte sant'agostino faceva un esempio molto simpatico e diceva se tu hai offeso un tuo fratello se hai commesso un'ingiustizia contro di lui e poi vai a ricevere la comunione come se niente fosse tu somigli a una persona che vede venire verso di sé un amico che non vede da molto tempo gli corre incontro gli getta le braccia al collo e si alza in punta di piedi per baciarlo sulla fronte ma nel fare questo non si accorge che gli sta calpestando i piedi con le scarpe chiodate i fratelli infatti specie i più poveri e derelitti sono le membra di cristo sono i suoi piedi posati ancora sulla terra e secondo punto miei cari l'eucaristia ci fa abbiamo detto un corpo solo ci fa chiesa ma intimamente profondamente possiamo anche dire che ci rende capaci di essere un solo corpo di essere chiesa cioè il signore venendo in noi e unendoci a sé vi dicevo che infonde in noi i suoi sentimenti il suo amore per il padre e per gli altri cioè viene a renderci come lui capaci di amare come lui perché noi saremmo tentati di chiedere ma signore come è possibile amare come te andare incontro a certa gente che veramente è assurda e fastidiosa antipatica ma non ci chiedi l'impossibile di amare come te e lui è come se in ogni eucaristia ci dicesse ma guarda che io non ti chiedo l'impossibile perché io mi dono a te perché in te e con te tu possa amare del mio stesso amore se tu apri il tuo cuore se la tua anima davvero diventa accogliente potremmo dire come l'anima della vergine maria che accolse con tutto l'amore la presenza del verbo del padre con l'eucaristia sarà invaso dal fuoco dello spirito e comincerai ad amare come dio apriamoci allora allo stupore di questo mistero grande d'amore dove la seconda persona della santissima trinità gesù risorto continua a rendersi presente in mezzo a noi e in noi che viene ad unirci a sé e tra noi e a renderci capaci di amare passo dopo passo come lui che il buon dio vi benedica a tutti grazie